Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Gaia e oggi vi mostro tutti i nuovi arrivi librosi dell'ultimo periodo. Si tratta di libri che ho ricevuto dalle case editrici, ricevuto in scambio perché ho scambiato alcuni libri, comprato io stessa e ricevuto per il mio compleanno. Infatti qualche giorno fa è stato il mio compleanno e mi sono stati regalati dei libri. Quindi sono molto contenta perché i libri sono il mio regalo preferito, anche se devo dire che è arrivato un altro regalo molto bello che si sente in sottofondo e vi vado a prendere perché la devo presentare anche qua su YouTube. E si tratta della piccola Teodora. La piccola Teodora è una bassottina troppo tenera e carina che appunto adesso mi terrà compagna per sempre. E niente, è troppo tenera, troppo carina, è molto brava, molto intelligente, sa fare tante cose, sa dormire per adesso, sa mangiare, sa fare tante cose e non è scontato. E nulla, niente, volevo presentarvela. Detto questo, e penso che questo sia il regalo più bello in assoluto, passiamo ai secondi regali più belli, ovvero i libri. Ve li mostro molto velocemente, sono tutti questi. Ne ho di lavoro da fare adesso per mostrarveli. E direi che inizio con quelli che vi ho già mostrato su Instagram. Se non mi seguite su Instagram, iniziate a farlo perché spesso e volentieri quando ricevo un nuovo libro lo mostro lì, molto velocemente. E poi passo a quelli invece che sono, tra virgolette, inediti. Il primo libro che vi mostro è questo meraviglioso libro illustrato, edito da Ippocampo, in cui vengono mostrate tutte le botteghe di Tokyo. È un libro, appunto, ricco di illustrazioni che sono fantastiche, in cui vengono riportati proprio quelli che sono i negozi, i negozietti, botteghe, botteghette, presenti a Tokyo. Cioè, se voi andate a Tokyo, trovate proprio questi edifici, che sono degli edifici bellissimi, davvero bellissimi, e, appunto, vengono illustrati così. Vi mostro molto da vicino i disegni perché sono super dettagliati. Io ho una passione per le illustrazioni e mi piace molto perché spesso e volentieri nei libri è di tipo campo. Alla fine l'illustratore mostra qual è la sua tecnica e questo libro non fa eccezione perché, appunto, alla fine l'illustratore, che si chiama Mateusz, se non sbaglio a pronunciarlo, mostra qual è la sua bottega, com'è, illustra anche quella e illustra tutti i suoi passaggi, i materiali che utilizza, le tecniche, ed è, secondo me, bellissimo vedere, appunto, come ogni illustratore vede il mondo e poi lo riproduce con la sua visione, bellissimo. E poi anche le prime pagine, tipo quelle ancora cartonate, hanno questi bellissimi schizzi preparatori con tutti i disegni tecnici e sono bellissime. Questo libro è proprio un gioiellino e se siete appassionati di cultura orientale secondo me fa proprio il caso vostro. Non solo cultura orientale ma anche lingua perché all'interno c'è il testo sia in italiano che in quello che credo sia, appunto, giapponese. Non sono una grande intenditrice di lingue orientali però, secondo me, visto che ci sono tante persone che conosco, ad esempio, che studiano lingue, è un ottimo modo anche per imparare in modo molto semplice un'altra lingua. Ok, ora, il giapponese sicuramente non è una lingua semplice ma, appunto, se già la state studiando, riuscite, secondo me, a fare un ottimo esercizio, a fare degli ottimi esercizi, diciamo, comprando questo libro. Dopodiché, passo a un altro invio da parte di una casa editrice e si tratta di Augustus di John Williams. Questo libro è edito fazzi editore ed era presente in Italia già da tempo. È una nuova edizione, questa qui, e io non ho mai letto nulla di questo autore però sono andata a recuperare a casa di mio nonno anche un altro suo libro che è Stoner, che è forse il suo libro più famoso. Che differenze ci sono tra questi libri? Beh, innanzitutto, questo è ambientato nell'antica Roma, se non sbaglio. Nell'antica Roma, esatto, e parte quando questo Augusto scopre che suo zio, Giulio Cesare, è stato assassinato. Quindi è un libro fortemente storico, ambientato nell'antichità. Io amo tutto quello che è storia, tutto quello che è passato, quindi non vedo assolutamente l'ora di leggerlo. Mentre Stoner, di cui non ho ancora letto la trama, dovrebbe essere un romanzo molto incentrato su questo Stoner, che è proprio un personaggio, è il protagonista, e sulla sua vita. È John Williams, uno scrittore americano, quindi voglio proprio conoscerlo, non vedo l'ora. Anche questo libro è edito fazzi editore, solamente che io ho l'edizione con la copertina rigida, mentre di questo l'edizione economica. Ho ricevuto un altro libro ambientato in Giappone e si tratta di Un lavoro perfetto di Tsumura Kikuko, che spero si pronunci così, al massimo segniamo un velo pietoso. Questo libro, che è edito Marsilio, è una storia in cui si racconta la vita di questa ragazza, questa giovane donna che è sulla Trentina, che sta cercando lavoro. Lei cerca un lavoro senza troppe pretese, che le lasci uno spazio mentale molto ampio, che non la impegni, diciamo, al massimo delle sue forze, e che appunto la lasci libera di vivere. Non approfondisco di più perché non l'ho ancora letto, però mi incuriosisce davvero molto, e quindi niente, ve l'ho mostrato. Passiamo ora a un acquisto che invece ho fatto, approfittando degli sconti Feltrinelli, perché non so, ma ultimamente ho una passione per i libri Feltrinelli, ne sto recuperando tantissimi, anche usati, ne ho comprati molti su Vinted, se avete visto i miei ultimi book haul dovreste saperlo, e però questo non lo riuscivo a trovare, quindi eccolo qua. E si tratta del Conte di Monte Cristo di Dumas. È un mattone, cioè un mattone francese gigantesco, e tra l'altro è scritto in minuscolo. In molti mi avete detto che non avete voluto comprare questa edizione, perché dentro è scritto davvero in piccolo, però io non mi faccio spaventare. Tra l'altro avevo già mostrato il Conte di Monte Cristo in un altro book haul, e avevo un'altra edizione che però non mi piaceva per niente. Non mi piaceva quell'edizione, non mi piaceva la copertia, non sentivo la vibe, ok, nei confronti di quell'edizione. Tra l'altro mi avete fatto anche notare che la traduzione all'interno non era delle migliori, e mi avete voi indirizzato verso la traduzione Feltrinelli. Per questa ragione mi sono liberata di quel libro, l'ho scambiato, e ho recuperato questo. Quindi, insomma, era un libro che vi avevo già mostrato, però, appunto, se non mi piace un libro, se non mi piace, se sento che appunto la traduzione non va bene e la copertina non mi attira, tutta una serie di cose, non mi faccio problemi a scambiarlo, venderlo, donarlo e recuperarlo magari in un'edizione migliore, anche perché appunto era un libro che volevo assolutamente leggere. Passiamo oltre e vi mostro un altro libro che in questo caso ho preso in prestito da mio padre, e si tratta del Mio anno di riposo e oblio di Ottessa Mosfeg. Avevo già mostrato un altro libro di questa autrice, sempre un regalo che mi fece mio padre a Natale, però avevo anche già detto che pensavo di non leggere quel libro in particolare, ma di iniziare da questo che è il suo libro più celebre, il Mio anno di riposo e oblio. Tra l'altro ne ho sentito parlare anche da Aurora nel suo podcast Questioni letterarie, e quindi mi sono lasciata incuriosire abbastanza e avendolo già in caso, insomma, l'ho recuperato. Anche questa spero sia una delle mie letture estive, vediamo quanto riuscirò a leggere quest'estate. Passo sempre a un altro romanzo, in questo caso un romanzo americano di Joan Didion, e si tratta di Run River. È un romanzo americano, a me piacciono tanto i romanzi americani, mi piace tanto la letteratura americana, e da tempo lo vedevo sempre in casa, perché anche questo non l'ho comprato, ma l'ho preso in prestito da mio padre, e insomma, forse di vedere anche sta copertina, insomma, ho detto, vabbè, lo devo leggere. Si prospetta il classico romanzo americano, cioè non so moltissimo, però a me piacciono proprio i romanzi americani, l'ho già detto, però insomma siamo fermi lì, e quindi dopo vi farò sapere. Poi, invece, ho preso in scambio, ho scambiato un libretto, che è ancora qua nel suo piego di libri, e ve lo mostro subito. L'ho scambiato su Vinted, tra l'altro, e si tratta della Vita degli Animali. È un libro edito ad Elfi molto sottile, questo autore lo conosco già, dovrebbe essere, se non sbaglio, un autore africano, sì, esatto, Sudafrica, e, beh, questo mi mancava, quindi l'ho recuperato. Sì, non che io abbia già letto altre cose di questo autore, ma ho visto che in casa abbiamo diversi suoi libri, quindi, quindi ho detto, vabbè, scambiamo anche quello che manca, e poi c'era un cavallo in copertina, quindi dovevo per forza prenderlo. I miei book haul praticamente diventano Gaia che ruba libri agli altri. Ho rubato di nuovo questo libro. Me l'aveva consigliato mio padre quando io ero adolescente, ed era il periodo di Hunger Games. Ve lo presento in questo modo. Lui mi aveva detto, dopo aver visto il film e dopo aver, insomma, ascoltato i miei sproloqui molto lunghi in merito alla saga di Hunger Games, che era una delle mie saghe preferite al tempo, che era spudoratamente copiato da un romanzo giapponese o cinese. Cinese, in teoria. Un romanzo cinese. E io dicevo, bah, e lui me lo diede, mi disse, lo devi leggere, perché è la stessa cosa, io non può essere la stessa cosa, Hunger Games non ha copiato niente da nessuno, e invece poi, con il seno di poi, mi sono resa conto che effettivamente ha copiato, e il libro in questione è Battle Royale, di Takami, che è appunto una scrittrice, no, uno scrittore giapponese, quindi in realtà avevo ragione, giapponese. E in poche parole la storia tratta di un massacro tra giovani e ragazzi al solo scopo, in teoria, di divertire. Non scendo nei dettagli perché non conosco bene la storia, però appunto anche qua sopra c'è scritto Un gioco crudele, 42 ragazzi, un solo sopravvissuto. Hunger Games, esattamente. Questo libro, tra l'altro, è del, vi dico subito, 1999, quindi precedente, e io l'ho anche proposto, cioè io non l'ho proposto, però alcuni di voi me l'hanno proposto per il gruppo di lettura, Le Pagaie, che tengo su Instagram. Infatti, per chi non lo sapesse, su Instagram c'è questo gruppo di lettura diretto da me, in cui leggiamo ogni mese un libro di vari generi, non abbiamo limiti, quello che ci va leggiamo, e tra le proposte per questo mese c'era stato Battle Royale. Ho deciso che non lo leggeremo questo mese, ma magari lo leggeremo più avanti, perché questo mese abbiamo deciso di leggere Un saggio, e leggeremo Secondo Natura di Eva Cantarella, di cui vi avevo già parlato qua sul canale. Quindi questo mese non leggeremo Battle Royale, ma perché no potremo leggerlo in seguito, anche perché è una storia, secondo me, di grande intrattenimento, e appunto, se vi è piaciuto Hunger Games, probabilmente vi piacerà anche questo, e quindi qualcuno l'ha proposto, e io ho detto perché no leggiamolo. Basta, vado al prossimo libro. Passiamo ora ai libri che mi sono stati regalati per il compleanno, e sono tre. Ve li mostro subito, partendo da Il Mostruoso Femminile, un libro che non avevo mai visto, e mi ha sorpreso, perché io mi reputo una gran conoscitrice di libri, quindi sorprendermi con un libro che non ho mai visto, ma che allo stesso tempo è in linea con i miei gusti, per me è stato sorprendente. E si tratta del Il Patriarcato e la Paura delle Donne, ha una copertina che è favolosa, davvero favolosa. Vi leggo quello che c'è scritto dietro, tralasciando alcune righe, è La mostruosità femminile fa paura, perché davvero può mettere fine al mondo. In poche parole mi è stato raccontato che in questo libro si approfondiscono alcune figure femminili, ad esempio cinematografiche, come la figura femminile nell'esorcista, quindi delle figure femminili mostruose, e si va a indagare come queste sono state costruite, il perché, cosa rappresentano, tutta una serie di cose di questo tipo. Cioè, fighissimo, io non vedo l'ora di leggerlo, e ripeto, incredibile come questa persona sia riuscita a regalarmi un libro che mi interessa così tanto, di cui non avevo mai sentito parlare. Sorpresa. Invece, altri due libri che ho ricevuto erano libri che erano nella mia wishlist. Cioè, qui proprio io ho mandato la wishlist, ho detto, fate voi, prendete quello che vi sentite, io comunque vi do delle indicazioni, anche perché immaginatevi quanto può essere difficile regalarmi un libro, quando, cioè, praticamente ci sono già tutti i libri del mondo alle mie spalle. I libri in questione sono Circe, di Madeline Miller, che è un altro libro che avete proposto per il gruppo di letture e che potremo leggere in futuro, perché è un libro, secondo me, anche molto estivo, molto, che è piaciuto molto a chi l'ha letto, quindi dovrebbe essere anche molto scorrevole, e sono molto contenta di averlo ricevuto come regalo. E poi, Anima, che è questo libro che a me ha tirato inizialmente per la copertina, ma penso che anche la trama sia spettacolare, perché dovrebbe essere una cosa un po' thriller, un po' horror, un po' intrigante, e non vedo l'ora di leggerlo. Detto questo, io vi ho mostrato tutti i nuovi arrivati in casa, dai libri alla piccola Teodora. Spero che questo video vi sia piaciuto, ricordate, se non l'avete ancora fatto, di mettere un like di sostegno, e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!